La mette dentro e quindi ancora Sanziero che ha avuto percentuali bassissime nella partita infrasettimanale 3 su 18 dall'arco, intanto ci prova e mette la tripla Dietro per Maresca, ancora palla a Nemi Becerina va fino in fondo, cecchi recupera il rimbalzo, mette la palla a canestro 9, primo ferro per lui, il rimbalzo è preda di Maresca Chiedo scusa di Spizzichini, e qui ottima azione con Biancotto Ed ecce, e riparte ancora Lumezzane con Becerina Ricordo che Becerina l'anno scorso affrontò Sansevero nel play-out Intanto buona azione, Spizzichini stavo dicendo Mario Sì, diciamo che lui sta andando molto molto bene in questo inizio di campionato Nemi, da tre punti a segno Palla recuperata di Magrini, contropiede di Sansevero Mastrangelo, Di Meco, Biancotto, Di Meco, in posti basso 1 contro 1 con Petruseschi Molto bene qui Di Meco 45 per Sansevero, Maresca, Biancotto, Di Meco, Nemi Recupera ancora dopo l'errore di Nemi Ed è Biancotto che prova dall'arco a segno con la 53-205 alla fine della terza forzione Attacca con Spizzichini, Lumezzane Adesso è Becerina ad aver ricevuto Si gira molto bene Perché forse sta capendo che non riesce comunque ad avere Di Meco per Maresca che va a chiudere molto bene il canestro E riparte Sansevero Il capitano di Sansevero Intanto l'ho schiacciato qui Non va a segno E' ottima azione da parte del gruppo